Le organizzazioni sindacali precisano che da anni denunciano la pericolosità dei passaggi a livello, chiedendone la soppressione totale. Eppure, nonostante l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria abbia evidenziato il numero di incidenti e di vittime determinati da incidenti analoghi a quello odierno, i passaggi a livello in Italia sono ancora migliaia. Precisano anche che c'è addirittura chi progetta la privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, mentre lavoratrici e lavoratori muoiono. Da qui la decisione, dopo l'accaduto di ieri sera dello scontro avvenuto tra il treno e il camion, dove hanno perso la vita due persone, di indurre uno sciopero per domani, giovedì 30 novembre, di 8 ore, dalle 9 alle 17, di lavoratori e gruppo Ferrovie dello Stato italiane e di tutte le imprese ferroviarie per denunciare la fragilità del sistema infrastrutturale dimostratosi inadeguato per utenza e lavoratori, in attesa che la magistratura faccia chiarezza sull'accaduto di ieri sera. I sindacati intanto hanno espresso il proprio cordoglio ai familiari delle vittime e la vicinanza alle altre persone coinvolte nell'incidente ferroviario.